Ci sono alcuni piatti che conosco da molti anni e che preparo in continuazione e che non mi stancano mai. Sono dei piatti semplici, sani e veloci da preparare, che per me è fondamentale, ma anche molto buoni e nutrienti. Quanto spesso li mangio però dipende anche dalla stagione, ci sono periodi in cui non li preparo mai e periodi in cui appunto li preparo ogni settimana o quasi. Vediamoli subito! Sono Irina e ti do il benvenuto sul canale Spazio Grigio. La prima è la Avopasta, come l'ho chiamata io, che è uno dei miei piatti preferiti e cioè la pasta con la crema di avocado, che avevo già condiviso ma questa volta è diversa. Per una porzione basta un avocado maturo. Io preparerò due porzioni, quindi due avocado. Questi sono italiani dell'azienda Sicilia Avocado. Un avocado maturo e leggermente morbido al tatto e potrebbe avere il colore sul marrone, ma dipende dalla tipologia. Per farlo maturare più in fretta basta metterlo in un sacchetto di carta insieme ad una mela e una banana se si hanno e dovrebbe essere pronto in uno o due giorni. Dunque per una versione più veloce basta schiacciare l'avocado, aggiungere sale e pepe e un po' di olio evo e del succo di limone e mescolare poi con la pasta una volta pronta. Questa volta invece per ottenere una versione più cremosa mettiamo l'avocado nel tritatutto e aggiungiamo gli ingredienti che ho menzionato prima, quindi sale e pepe e un po' di olio evo, circa un cucchiaio e del succo di limone. La pasta è pronta, scolo la pasta lasciando un po' di acqua di cottura da parte. Aggiungo la crema di avocado e un po' di questa acqua di cottura. Mescolo ed è pronto ed è talmente buona e dal sapore delicato che non mi stanca mai. Ora sopra mi piace aggiungere pomodorini freschi o secchi e aggiungo sempre i semi di canapa che non alternano il gusto del cibo ma apportano tanti benefici e nutrienti extra. Non è sempre facile trovarli, questi sono del negozio Koro che vi lascio in descrizione insieme ad un codice sconto dove ho trovato anche la confezione da un chilo quindi più conveniente a livello del prezzo. La seconda ricetta è della mia fantastica zuppa con la zucca, latte di cocco e curry. È saporita ma delicata, non sa di curry, non sa di spezie troppo forti, non sa di cocco, non è dolce. È una zuppa che scalda il cuore e ogni volta che la mangiamo non capisco perché non la prepari ancora più spesso perché da quando l'ho scoperta quattro anni fa non ci ha mai stancato. A noi la zuppa non piace ma in questa zuppa la adoriamo. Io uso la zucca butternut che è quella che conosco e che ho cucinato per la prima volta appunto quando ho scoperto questa zuppa. Comincio con il preparare gli ingredienti. Mi faccio sempre aiutare da mio marito con la zucca per fare prima. Dunque per quattro porzioni userò mezza zucca, due patate, una carota, una cipolla, uno spicchio d'aglio e circa una tazza di piselli surgelati. Faccio soffriggere la cipolla e l'aglio in poco olio evo per qualche minuto e aggiungo sale e pepe e le spezie, quindi un cucchiaio abbondante di curry, mezzo cucchiaio di curcuma e un po' di peperoncino. Mescolo per un minuto circa e aggiungo una confezione di latte di cocco che si trova nei supermercati più grandi o nei negozi bio e circa un bicchiere di passata. Mescolo ancora e porto a debollizione. Nel frattempo taglio il resto delle verdure, le aggiungo alla nostra zuppa, mescolo, aggiungo dell'acqua bollente quanto basta per coprire le verdure, metto il coperchio e lascio cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio. Assaggio per vedere se è pronto e se manca qualcosa. È pronto! Spengo il fuoco e aggiungo succo di limone a piacere per dare un po' di acidità e del prezzemolo fresco o surgelato. È talmente buona che non mi bastano le parole per descriverla. Ne preparo sempre di più anche per il giorno dopo che secondo me è ancora più buona. Provare per credere! La prossima ricetta è con la barbabietola. Avrete finalmente una ricetta semplice e buona per usare quella barbabietola che avete a casa o che vedete sempre al supermercato e non avete il coraggio di comprare. Non so se ha un nome quindi chiamiamola insalata di barbabietola. Prendo due barbabietole già cotte, precisamente una confezione come solitamente si trovano al supermercato e le grattugio. Attenzione a non sporcare nulla perché il colore potrebbe non andare via. Elimino l'acqua in eccesso e aggiungo un paio di ingredienti ed è fatta. Sale, pepe, uno spicchio d'aglio schiacciato e un cucchiaio o due di maionese. Io la faccio in casa e vi lascio la ricetta sotto. Ingrediente extra quindi facoltativo ma che aggiunge sapore e buoni nutrienti di cui abbiamo sempre bisogno sono le noci, leggermente tritate o anche spezzate con le mani. Mescolo ed è pronto. Ottimo come antipasto su del pane tostato o come contorno. Le ultime due ricette sono insieme perché vedremo come preparare le crepes da mangiare sia dolci sia salate. Come procedimento si sa le crepes non sono così veloci da preparare ma c'è un trucchetto. Preparare l'impasto la sera e quindi fare le crepes salate per cena e lasciare un po' dell'impasto per il giorno dopo per il mattino quando basta semplicemente cuocerli in padella per delle crepes dolci per colazione. È una strategia che abbiamo usato più volte ed è davvero comodo. Vi sveglio però che io le crepes non le ho mai preparate, l'ha sempre fatto mio marito quindi le faccio fare a lui. Per circa 12-15 crepes aggiungiamo in una ciotola capiente 200 g di farina e 500 ml di latte di soia. un pizzico di lievito per dolci, un cucchiaio scarso di zucchero, un pizzico di sale e due cucchiai di olio di siemi o di oliva. Mescolare tutto bene bene con una frusta deve avere questa consistenza. Se non è abbastanza liquido aggiungere ancora 50 ml di latte. Il segreto per le crepes è far riposare l'impasto in frigo per circa 30 minuti. Questo è un altro motivo per cui prepariamo le crepes la sera e non la mattina. Dunque sciogliere in una padella antiaderente un cucchiaino di burro, noi usiamo quello vague, e ungere la padella. Versare l'eventuale rimasto del burro sciolto nell'impasto. E ora versare circa un mestolo di impasto in padella e fare dei movimenti circolari finché l'impasto copre tutta la padella. Cuocere a fuoco medio per circa un minuto per parte. Per girare la crepe staccare lentamente i bordi e girarla facendo attenzione a non romperla. Queste crepes sono neutre quindi da mangiare dolci per esempio con della marmellata e burro di frutta secca oppure salate per esempio con della crema di fagioli cannellini e funghi. Quindi ora vediamo la ricetta proprio di questa crema di cannellini. Aggiungo nel tritatutto una scatola di fagioli cannellini. Tengo sempre in dispensa qualche scatola di legumi pronti per dei piatti veloci. Aggiungo sale e pepe, un goccio d'acqua, olio a evo circa un cucchiaio e succo di limone circa mezzo limone. Si potrebbe aggiungere dei carciofi sott'olio oppure della tahina che è semplice crema di semi di sesamo ma che io in questo caso non aggiungerò. È pronta ed è buonissima. La aggiungo alle crepe insieme a dei funghi. La crema di cannellini può diventare un antipasto su del pane oppure condimento per la pasta oppure un secondo vero e proprio. Spero che le ricette vi siano piaciute. Ho scelto dei piatti un po' diversi dal solito per far scoprire delle ricette e degli ingredienti nuovi. Se li preparate taggatemi su Instagram dove mi trovate sempre con il nome spazio grigio. E ci vediamo al prossimo video. Fino ad allora vi auguro di creare il tempo per cucinare anche dei piatti veloci ma sempre più sani e buoni se fatti in casa. Peace.